Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it l'argomento di oggi è uno dei miei preferiti, via mettiamola in questo modo oggi parliamo del compressore multibanda di Adobe Premiere Pro in realtà il compressore multibanda è uno strumento messo a disposizione da Adobe Audition va detto che Adobe Premiere nelle ultime release, da diverse release a dire la verità sfrutta il motore di Adobe Audition per permettere ai montatori video di gestire l'audio sfruttando alcune delle potenzialità messe a disposizione da Audition il compressore multibanda è uno di quegli effetti portati da Adobe Audition ad Adobe Premiere e oggi vedremo quanto è potente, veramente potente questo effetto chiamiamolo effetto, in realtà non è un effetto, è un'applicazione che migliora l'audio lo rende un pochettino più omogeneo, alza alcune frequenze, abbassa altre effetti serve per rendere più gradevole il suono che state ascoltando volete un esempio? ecco, tolgo il compressore audio da questa mia voce ecco, adesso ho tolto il compressore audio e potete sentire la registrazione naturale della mia voce senza compressione torniamo alla compressione audio ecco la differenza, sentite la voce se volete più potente, i bassi sono più calcati, le frequenze vengono sistemate ecco, questo fa il compressore audio migliora non solo la voce, migliora qualunque suono o meglio, non è un toccasana che fa miracoli ma è sicuramente uno di quegli strumenti che quando si lavora con l'audio bisogna utilizzare, bisogna saper utilizzare perché i compressori, come detto nelle lezioni precedenti sono difficili da gestire ce ne sono di tantissimi tipi sono complessi, articolati esistono per fortuna dei preset e noi lavoreremo con dei preset perché, ribadisco, ognuno deve fare il suo lavoro un montatore video deve montare un video un ingegnere del suono, un fonico, un tecnico dell'audio deve saper gestire i segnali, i segnali sonori purtroppo spesso capita di ascoltare spesso anche su internet spesso anche su siti importanti di vedere degli audio veramente disastrosi vuoi per la fretta di dover consegnare il lavoro vuoi anche per la poca volontà di migliorare il proprio lavoro vuoi anche per la vita frenetica che si fa non so qual è il motivo però l'audio è spesso un aspetto sottovalutato non serve essere grandi ingegneri per fare dei piccoli ritocchi e migliorare l'aspetto sonoro delle proprie creazioni multimediali e noi oggi cercheremo con questo video tutorial di dare qualche strumento in più a chi vuole migliorare anche l'aspetto sonoro delle proprie creazioni prima però vi ricordo come sempre se vi fa piacere di mettere un like alla mia pagina facebook mi trovate come Fabio Ambrosi se vi fa piacere perché no venite a trovarmi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora troverete anche le lezioni che faremo da qui fino alla fine di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere lo ribadisco è un corso di introduzione non affrontiamo tutti gli aspetti del software e anche parlando dell'audio come detto non dobbiamo diventare degli ingegneri del suono se vi fa piacere ma io ve lo consiglio iscrivetevi anche a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial che usciranno da qui in avanti parleremo anche di After Effects molti mi domandano parlerai di After Effects? si parleremo anche di After Effects ma più avanti più avanti nei prossimi mesi con l'autunno probabilmente anche con l'inverno e parleremo di Photoshop parleremo di Audition nel dettaglio cerchiamo di andare avanti con questi corsi quindi iscrivetevi a questo canale torniamo in Premiere e apriamo il compressore multibanda ecco il compressore multibanda di Adobe Premiere sembra semplice in realtà perché non sono poi tantissime le opzioni sembra anche complicato da un certo punto di vista perché esistono tanti parametri diversi parametri con cui operare ma vedrete che alla fine con un po' di esperienza non è poi così complesso intanto vediamo come applicare questo effetto alle nostre creazioni vi dico subito che in futuro nei prossimi tutorial nelle prossime settimane quando parleremo del mixer audio di Adobe Premiere del mixer delle tracce audio di Adobe Premiere vedremo come applicare un effetto direttamente a un'intera traccia audio io in questo caso ho applicato questo è il progetto di tutorial ho applicato il compressore multibanda di Adobe Premiere alla traccia principale al master se volete la traccia a cui confluiscono tutte le altre tracce la traccia delle tracce chiamiamola così lo vedremo però questa cosa nelle settimane prossime nei prossimi tutorial oggi vedremo come intanto applicare questo effetto ad una ad una ad una clip audio allora intanto come sapete come spero sappiate per applicare un effetto audio dovete fare la stessa cosa che abbiamo visto fare per gli effetti video quindi navigare nel pannello effetti scegliere la categoria effetti audio individuare l'effetto compressore multibanda cliccare sopra e trascinarlo sopra alla clip audio su cui volete applicare l'effetto attenzione lo dico perché molti mi dicono non riesco ad applicare l'effetto dovete applicare l'effetto all'audio se chiaramente la traccia audio è vuota l'effetto non può essere applicato no lo dico perché a volte mi vengono fatte domande di questo tipo quindi rispondo subito dovete applicare l'effetto audio al canale audio o meglio alla clip audio di destinazione ok ora io per praticità vi faccio vedere come funziona il compressore audio aprendolo dal mixer delle tracce audio ma il procedimento è lo stesso applicato l'effetto audio sopra la clip navigate nel pannello controlli controllo effetti vedete che l'effetto è stato correttamente applicato cliccate su modifica e vi viene aperto il pannello del controllo del compressore multibanda di adobe premiere come dicevo io per praticità vi faccio vedere come funziona questo effetto avendolo già applicato all'intera traccia master di questo progetto ma il principio è lo stesso il pannello come potete vedere è sempre lo stesso ok allora intanto facciamo un passo indietro abbiamo parlato qualche lezione fa di come è composto un audio digitale recuperate il tutorial credo che sia il 45 o 46 non ricordo fate un saltino indietro di diversi tutorial se volete tornare alle caratteristiche fondamentali di un segnale audio digitale abbiamo detto che qualunque suono è composto da diverse frequenze ok quando andate al cinema faccio sempre questo esempio quando andate al cinema e siete davanti ad una scena d'azione sentite molti suoni bassi molte esplosioni molti molti suoni che fanno tremare tutto ecco in quel caso c'è una dominanza di suoni di frequenze basse ok frequenze con un caratterizzate da suoni molto gravi molto molto potenti che fanno tremare tutto al contrario quando sentite per esempio urlare una voce femminile o anche un insetto che magari gironzola siete davanti a delle frequenze alte acute possiamo dire forse in maniera non precisa è vero però che qualunque suono anche il suono di una zanzara ha delle frequenze di vario tipo ok frequenze si dicono basse medie e alte il compressore multibanda è un compressore quindi quando abbiamo parlato qualche lezione fa dei compressori abbiamo visto qual è lo scopo di un compressore che è quello di comprimere un suono quando raggiunge una determinata soglia il suono viene abbassato automaticamente dal compressore che appunto comprime la forma d'onda il compressore multibanda di adobe premiere è un compressore abbiamo detto che esistono vari tipi di compressori questo è uno dei tanti tipi di compressori che esistono ed è molto bello perché va a lavorare sulle singole bande sulle singole frequenze o meglio su bande su blocchi di frequenza specifiche ok guardate questo pannello abbiamo quattro bande su cui è possibile operare ok una banda caratterizzata da suoni gravi da suoni con frequenze basse vedete caratterizzata da questo primo blocco di sinistra una seconda banda che può essere tarata su frequenze diciamo intermedie tra frequenze basse e frequenze medio basse una terza banda che può contenere frequenze medie medio alte e infine una banda che contiene frequenze alte ok per ogni singolo blocco di frequenza è possibile applicare delle impostazioni differenti del compressore quindi come abbiamo visto nella lezione sui compressori i compressori hanno quattro parametri sempre validi li trovate in quasi tutti i compressori la soglia il rapporto l'attacco e il rilascio non torno a spiegare che cosa fanno questi valori c'è la lezione specifica sui compressori recuperatela dico sommariamente che la soglia è il valore in decibel espresso in decibel oltre il quale viene attivato il compressore il rapporto indica di quanti decibel deve essere abbassato un suono dopo che ha raggiunto la soglia l'attacco e il rilascio indicano quanto tempo impiega il compressore per attivarsi e quanto tempo impiega il compressore per spegnersi via mettiamolo in questo modo fine questo è quello che fa il compressore multibanda a differenza di un compressore tradizionale di un compressore semplice il compressore multibanda può operare su più bande di frequenza per modificare le bande di frequenza abbiamo queste linee verticali che trovate in questa finestra o questi tre valori modificando i quali si sceglie su quale range di frequenza operare nella parte destra di questa applicazione di questo effetto troviamo un controllo di guadagno ok dopo aver applicato la compressione alle varie frequenze se il segnale audio entra qui dentro e noi possiamo aumentare il volume se vogliamo dire così o diminuire il volume che esce dalla compressione terminata questa operazione di guadagno eventuale se stiamo a 0 db questo diciamo parametro non agisce il segnale audio entra eventualmente dentro al limitatore lo vedremo più avanti il limitatore serve a limitare ok se un suono è troppo alto il limitatore automaticamente lo abbassa è una sorta di cane da guardia che ci aiuta a evitare che i suoni raggiungano valori troppo alti che non vogliamo raggiungere come lo 0 ricordo un suono per non andare in distorsione non deve toccare o raggiungere o superare il livello di 0 db ok parliamo di audio digitale l'analogico è tutta un'altra cosa e basta questo è il compressore audio sostanzialmente come impostare il compressore multibanda di adobe premiere allora ribadisco questo è un corso dedicato a concetti base di premiere non è un corso di audio esistono esistono delle persone che sono molto competenti su tutto ciò che concerne l'audio ok e che hanno fatto dei corsi dei video tutorial anche molto 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 completi disponibili su youtube io vi consiglio se volete di cercare su youtube il nome di jason lavine jason lavine è un adobe evangelist è un ragazzotto che sostanzialmente sa tutto o quasi di molti software adobe ok è molto più bravo di me non c'è problema a dirlo è uno molto 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 competente e questo ragazzo questo sì questo ragazzo perché alla fine credo che sia un giovanotto ha creato diverse playlist su varie tematiche molto molto interessanti tra queste playlist se navigate trovate una playlist che si chiama audio 101 by jason lavine che sostanzialmente è una playlist dedicata solo ed esclusivamente all'audio come funziona l'audio come si deve lavorare nell'audio cliccando nella playlist troverete tutta una serie di video tutorial guardate la durata andiamo oltre l'ora altro che le mie lezioni da 30 minuti che a volte sono anche molto lunghe questo ragazzo fa dei tutorial lunghissimi ma sono veramente completi e l'ottava lezione l'ottava parte di questa playlist è dedicata esclusivamente al mondo dei compressori audio e dei limiter questa lezione dura un'ora e cinque minuti in cui si parla solo di compressori e solo di limiting ok questo per dirvi quanto può essere complesso il tema chiaramente dell'audio in generale e dei compressori in questo caso specifico allora innanzitutto sappiate che tutti gli effetti di premiere in realtà e quelli audio soprattutto hanno dei preset i preset sono delle preconfigurazioni sono dei predefiniti se volete creati già a monte per cercare di soddisfare diverse esigenze no se voi aprite i predefiniti presenti nel pannello del compressore audio del compressore multibanda di audio di adobe premiere trovate tutta una serie di preset sembrano pochi in realtà già questi sono più che sufficienti per le esigenze di un montatore video ok e anche per le esigenze di un musicista se vogliamo come potete vedere ogni aspetto di un di un lavoro audio di un progetto audio ha una propria tipologia di compressione se dovete applicare il compressore ad una batteria perché siete dei musicisti per esempio abbiamo il preset batteria o anche se dovete fare un master di musica pop abbiamo un master per la musica pop noi montatori video ribadisco se siamo fortunati abbiamo un ingegnere del suono abbiamo un fonico abbiamo qualcuno bravo che prende il nostro audio e ce lo trasforma se dobbiamo fare tutto noi non vogliamo stare ad impazzire a studiare bene come funziona nel dettaglio il compressore audio possiamo affidarci secondo me a due predefiniti a due preset molto utili e sono il standard di trasmissione e un altro un altro preset che si chiama consegna via internet sono due preset che io trovo molto molto utili sono molto simili in realtà servono a potenziare la voce se vogliamo ma non solo la voce in realtà tutto il master dell'audio che stiamo creando la consegna via internet già il nome dice tutto è un preset che può essere utilizzato se si deve distribuire il video a cui si sta lavorando per esempio su internet e vi posso garantire che già così va bene nel 90% dei casi applicate questo preset al vostro lavoro e il più è fatto l'altro preset che potete utilizzare è chiamato standard di trasmissione è un preset un po' meno aggressivo del precedente ed è utile se dovete distribuire l'audio o l'audio delle vostre creazioni o comunque il vostro video su un televisore piuttosto che se deve essere trasmesso in televisione tra virgolette perché poi ribadisco quello che già ho detto se dovete lavorare per grandi produzioni esistono degli standard e lì veramente dovete affidarvi ad un professionista però ecco sappiate che lo standard di trasmissione è un preset un po' meno aggressivo rispetto al preset consegna via internet io consiglio se dovete lavorare per youtube per vimeo o anche per un sito di informazione online il preset consegna via internet va più che bene chiaramente come dicevo questi settaggi queste compressioni possono essere bypassate premendo il tasto bypass c'è una cosa molto bella di cui ancora non ho parlato presente in questo plugin presente in questo effetto che è il limitatore che cosa fa il limitatore il limitatore limita vabbè ci siamo arrivati tutti ma che vuol dire vuol dire che il limitatore analizza il suono in entrata se vede che l'audio supera una determinata soglia automaticamente lo butta giù ok è un po' quello che fa il compressore se volete ma in maniera un po' più generale ok anche qui abbiamo una soglia ovvero un valore oltre il quale si attiva il limitatore un margine che indica fino a che punto vogliamo fare arrivare l'audio la potenza del nostro audio e il classico attacco e rilascio che serve per dare una sensazione un po' più morbida ok a questo limitatore l'attacco è quando il limitatore entra in funzione dopo quanti millisecondi entra in funzione il limitatore e il rilascio dopo quanti millisecondi il limitatore viene sospeso in queste opzioni in basso trovate una voce limitatore muro mattoni che non è altro che un termine per indicare che attivando questa opzione si attiva un hard limiting ovvero un'intransigenza maggiore del limitatore se questo limitatore è spento i suoni possono anche superare la soglia impostata magari di poco ma possono superarla è comunque un po' più morbido attivando questo limitatore di mattoni il suono non supererà mai il valore impostato nel margine ultima raccomandazione quando lavorate ad un segnale audio con un compressore attenti attenti al suono in ingresso attenti non esagerate mai con il valore di input della traccia su cui state lavorando perché il compressore lavori bene bisogna stare attenti al volume di ingresso dell'audio qui entra in gioco il vostro orecchio cercate sempre di ascoltare quello che state facendo non andate mai per automatismi ok perché andando per automatismi si rischia di sbagliare ascoltate sempre quello che fate ed eventualmente tarate un attimino meglio le impostazioni con cui state lavorando quindi un audio troppo acuto no un audio troppo potente in ingresso può creare un effetto discoteca se volete quindi prestate molta attenzione questo vale soprattutto per la musica mi fermo qui iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial non ricordo sinceramente di cosa parleremo nella prossima lezione credo che parleremo dei keyframe ma potrei sbagliare comunque andiamo avanti ancora a parlare di audio vedremo come regolare i volumi in maniera dinamica alzando e abbassando l'audio a seconda delle esigenze poi ancora parleremo come detto dei mixer presenti in premiere parleremo anche di come lavorare l'audio in adobe audition che è molto molto potente quel software soprattutto per pulire l'audio parleremo anche di una nuova funzione di adobe premiere che si chiama audio essentials che sostanzialmente ci permette di migliorare l'audio con pochi click senza dover impazzire troppo con parametri e cose del genere e poi finito quel blocco parleremo della color correction non abbiate fretta di fare la color correction perché anche lì daremo uno sguardo a come funziona in generale la color correction in premiere ma anche lì esistono corsi non di due ore ma di 40 ore su come fare una buona color correction quindi noi daremo le informazioni necessarie per utilizzare gli strumenti che adobe premiere mette a disposizione ma per poter lavorare e per essere dei bravi montatori dovete studiare e fare tanta tanta pratica per il momento vi ringrazio www.fabbiambrosi.it e lì troverete l'articolo di questa lezione grazie ancora buon proseguimento ciao 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 grazie a tutti